Oggi vediamo un circuito per fare il controllo dei toni utilizzando dei filtri RC, passa alto, passa basso, che possiamo combinare. Sono schemi che ho trovato su internet, ho cercato di dargli un senso. In parte li ho anche ricavati dovendo riparare la mia chitarra, quindi ci ho messo dentro il naso e ho trovato un po' di componenti collegati in vario modo. Cerco di presentarveli qua. Spero che la cosa sia interessante, iniziamo subito. Mi serviva un circuito per controllare i toni di un amplificatore che sto costruendo e a breve vi presenterò. Cercando su internet ho trovato vari schemi, proviamo a vederne uno insieme e capirne il funzionamento. Anche perché mi avete chiesto un'applicazione pratica di questo tipo di filtri, quindi iniziamo disegnando la parte passa alto. Il modello che ho trovato su internet utilizzava un condensatore da 3,3 nF e una resistenza. Questo resistore lo possiamo inserire regolabile, quindi un 22k kohm collegato verso ground. Quindi questo qui mi fornisce la prima uscita, chiamo U1. Questo è il nostro passa alto. Applicando qua un segnale avremo una frequenza di taglio che possiamo calcolare con la solita formula, quindi 1 fratto 2π per 1 fratto rc. Questo facendo i calcoli dovrebbe dare una frequenza di circa 2 kHz, con la possibilità di modificare il valore di taglio entrando col potenziometro. Quindi se noi andiamo a tracciare il diagramma di Bode come abbiamo visto nei video precedenti utilizzando la PLUS, essendo questo un passa alto avremo una frequenza qui la fc e andremo a spostarla in avanti o indietro cambiando il loro edr. Andiamo a vedere un sito online su cui possiamo fare questo tipo di calcoli, quindi sim okawa-denshi.jp, vi lascio poi il link in descrizione. Quindi su questo sito possiamo fare i calcoli per i nostri filtri mettendo semplicemente i valori. Mettiamo i valori, la nostra resistenza 22k, il condensatore abbiamo detto 3.3n e premiamo calcola. Vengono fatti i conti, ci dà la funzione di trasferimento, vedete con 0 e un polo, la frequenza del polo è a 2 kHz. Qui sotto ci disegna anche i diagrammi, noi siamo molto felici di questa cosa. Quindi vedete il diagramma in scala semilogaritmica, quindi logaritmica in orizzontale e qui abbiamo i decibel. Vedete che alla frequenza di questo E1, questo E2, quindi questo qui è la frequenza di taglio di 2 kHz circa, abbiamo il ginocchio e qui sotto abbiamo ripulato anche la fase. Possiamo anche sperimentare, magari cambiare i valori. Se diminuiamo il nostro trimmer possiamo vedere a quanto possiamo arrivare come frequenza. Quindi se scendiamo a 10, vedete che la frequenza sale, arriviamo a 4.8, immaginate di portarlo a un valore minimo, giusto per non arrivare a 0, mettiamo 10 ohm, quindi con il trimmer regolato praticamente a 0, riusciamo ad arrivare a una frequenza di taglio molto molto alta, forse fin troppo esagerata, potrebbe convenire mettere una resistenza di guardia prima del trimmer per bloccarlo a una frequenza massima. Per esempio mettendo un chilo, facciamo il calcolo, ci blocchiamo a 48 kHz che è un buon valore, quindi possiamo eventualmente modificare lo schema aggiungendo la resistenza da 1 k. Quindi qua potrete andare a inserire la resistenza in questo modo. Ok, abbiamo visto la prima parte e come può funzionare. Vediamolo su breadboard. Questo è il passa alto, 3,3 e 22k, collegato a generatore segnale e oscilloscopio. Vediamo i segnali. Qui è impostato al massimo, quindi ha una frequenza di taglio di 2 kHz. Siamo a 100 Hz. Allora, vediamo un po'. Questo è 1 kg. 2 kg. Passiamo a 10. Ed è più alto il livello. Più salgo, più è alto. Facciamo 100. Ok, quindi passa inalterato. Torniamo a 1 per vedere la differenza. 1. Devo diminuire il tempo, altrimenti eccolo qua. Ed è molto più bassa. Se io scendo, si abbassa. Quindi fa passare le frequenze alte. Posso intervenire con il trimmer e quindi modificare la frequenza di taglio che scende. Bene, fatto questo aggiungiamo l'altra parte, quindi la parte passa basso, perché il filtro che vogliamo realizzare prende un ingresso, lo fa andare su il filtro passa alto, dall'altra parte sul nostro filtro passa basso. Entrambi li possiamo regolare con il trimmerino e poi andremo in qualche modo a sommarli insieme per produrre l'uscita. Realizziamo il passa basso con altri due componenti, una resistenza e il condensatore. Basta girarli come ordine, quindi avremo resistenza e condensatore messo tra l'uscita e ground e questa è l'uscita numero 2. Come valore possiamo prendere anche qua magari un 22k, mettiamo il trimmerino, eventualmente con una resistenza di guardia come abbiamo visto prima. Io poi nella realtà non l'ho messa, dopo vedrete. E qui ipotizziamo di mettere un 10nF. Ok, questo schema l'ho trovato già pronto, quindi lo sto riguardando e capendo con voi. Andiamo a vedere come funziona anche questo filtro. Quindi torniamo sul nostro sito, qui abbiamo il filtro passa basso. Mettiamo quindi resistenza da 22k, un condensatore da 10nF e facciamo il calcolo. Il filtro ci dice, o intanto ci riporta la funzione, vedete che ha un polo e basta, la frequenza di taglio è di 723 Hz. Possiamo scendere e vedere i diagrammi, vedete che alla frequenza di 700 Hz abbiamo il ginocchio scende poi, con una pendenza di meno 20 dB a step. Avendo messo la resistenza minima di 1k, vediamo qual è la frequenza limite che raggiungiamo, facciamo il calcolo di nuovo. Quindi possiamo spingerlo poi fino a 15k in altezza. Quindi possiamo combinare le due risposte dei due filtri per andare a creare un segnale, diciamo, a piacere in uscita. Quindi potendo modificare la F1 e la F2, li possiamo andare avanti e indietro e ottenere la combinazione che preferiamo. Per combinare i due segnali, allora, intanto l'ingresso viene semplicemente preso e portato a tutti e due i circuiti. In uscita troviamo semplicemente un trimmer, un valore opportuno, messo a cavallo tra i due filtri. Questo trimmer lo prendiamo da 220k a un valore abbastanza elevato per evitare che si diano fastidio. E da qui estraiamo il segnale che poi possiamo portare, per esempio, all'amplificatore. Questo schema sembra un po' banale, è totalmente passivo. Viene di solito utilizzato nelle chitarre, nei bassi, per creare dei filtraggi del segnale. Difatti, più o meno arriva da quello, quindi volevo capire il funzionamento insieme a voi. Modificando l'effetto del trimmer potete dare una prevalenza ai bassi o agli alti. Qui ho aggiunto anche il passabasso. Passabasso e semplice mixer. Ho impostato in modo che sto prendendo il passabasso, quindi il mixer sul passabasso. Qui regolo la frequenza del passabasso, la frequenza di taglio e di intervento. Lascio la massima, se scendo con la frequenza dovrebbe essere più alta, mettiamo 100 più alta. La metto più, salgo, diciamo 10. Salendo si abbassa. Poi ho la possibilità di miscelarli, quindi posso cambiare il mixaggio. Adesso entra in gioco anche il passalto. Posso usarlo per far aumentare eventualmente il segnale e quindi creare qualcosa di differente, quindi far prevalere gli alti o le basse frequenze. Infine, come prova ultima, ho provato a applicare il filtro al generatore di dente di sega che abbiamo realizzato qualche video fa. Quindi troveremo qua il nostro filtro regolabile e poi l'amplificatore collegato in uscita. Questo per vedere cosa succede modificando i vari parametri se dal punto di vista uditivo sentiamo delle differenze. Vediamo il tutto montato su breadboard. Qui abbiamo ampli, generatore di dente di sega e filtro. Cambiamo la frequenza. Possiamo cambiare i toni. Bene, questo semplice circuito passivo può essere applicato in molti modi per creare un controllo di tono nei vostri circuiti. Quindi è semplice, economico e rapido da realizzare. Bene, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!